Tre sedute del Consiglio regionale interamente dedicate al bilancio. Si parte domani con il documento di economia e finanza, si prosegue mercoledì con il collegato alla manovra e la legge di stabilità. Infine giovedì il bilancio di previsione 2021-2023. Tre sedute che si annunciano infuocate. L'opposizione attacca, i 5 Stelle parlano di tanti debiti e poche idee per il futuro, mentre per il PD il bilancio è inemendabile, caratterizzato da un disavanzo di 500 milioni di euro e su cui si sono già espressi negativamente i revisori dei conti. Il giudizio l'hanno dato in via anticipati i revisori che non lo hanno approvato, hanno dato il parere negativo e significa che arriverà per la prima volta nella storia della regione Molise un bilancio che non ha il parere dei revisori, un bilancio che dal mio punto di vista è inemendabile, un bilancio che è sbagliato, che trova delle falle e che non garantisce la copertura finanziaria minima per i servizi minimi. Ripeto, è la prima volta nella storia che accade una cosa del genere, vedremo se la maggioranza porterà degli emendamenti, un maxi emendamento, ma se lo farà a saldo invariato, vorrà dire senza muovere il conto delle uscite, sono degli emendamenti che saranno irricevibili, ragione per la quale io stesso per la prima volta anche da consigliere di minoranza oggi e maggioranza ieri non presenterò nessun tipo di emendamento. Io ritengo che non sia tecnicamente emendabile un bilancio che non ha il parere favorevole dei revisori dei conti. La maggioranza di contro rivendica un lavoro importante volto alla ripulitura di un bilancio che presentava crediti inesigibili per 140 milioni di euro. Non solo ci sentiamo tranquilli ma abbiamo dovuto svolgere un'azione molto importante che descriverò tra qualche secondo. Voglio fare una precisazione, i revisori hanno dato parere non favorevole, quindi non hanno bocciato il parere. Non so se questa è la prima volta che accade, credo che ci siano altri precedenti. Noi abbiamo dovuto in questi tre anni, tra le altre iniziative, togliere circa 140 milioni di euro, di crediti inesistenti. Lo abbiamo fatto attraverso tre delibere, l'ultima delle quali qualche giorno fa. Di questi 140 milioni ben 100 sono già stati coperti, altri 41 dovremmo coprirli per quest'anno e per i prossimi due anni, di cui 19 durante quest'anno e 22, tra il 2022, 22 milioni di euro, nel 2022 e nel 2023.